Oggi ricorre la giornata internazionale per i bambini scomparsi. È un dovere di tutti proteggere i bambini, soprattutto quelli esposti ad elevato rischio di sfruttamento, tratta e condotte devianti. 8. Auspico che le autorità civili e religiose possano scuotere e sensibilizzare le conscienze, per evitare l'indifferenza di fronte al disagio di bambini soli, sfruttati e allontanati dalle loro famiglie e dal loro contesto sociale. 9. Bambini che non possono crescere serenamente e guardare con speranza al futuro, invito tutti alla preghiera affinché ciascuno di essi sia restituito all'affetto dei propri cari. 10. Bambini che non possono crescere 아니oli. 10. Bambini che non possono crescere essere sfruttati. Grazie a tutti.